Sono felicissimo, è un sogno che si realizza e non vedo l'ora di iniziare questa avventura. Fino a sei mesi fa ero sempre un centrocampista e quest'anno durante l'estate il mister Calori del Brescia intravedeva dentro in me le qualità giuste per fare il difensore e mi ha spostato lì. Lì secondo me ho fatto il salto di qualità e ora mi ritengo un difensore, però ovviamente posso giocare anche a centrocampo in casa di emergenza, però mi ritengo un difensore. Ho giocato sempre davanti alla difesa, di solito un centrocampo a tre. È capitato all'inizio della Brescia, quando avevo 17 anni, con il mister Sonetti giocava anche a due, quindi non ci sarebbero i problemi. Però ultimamente il salto di qualità l'ho fatto in difesa. Devo dire che non ho un idolo calcistico preciso, cerco di guardare tutti i giocatori, quelli forti che giocano nel mio ruolo e rubare qualche trucco, ma un nome non lo faccio perché non ce l'ho. Mi fa molto piacere entrare in un club come il Milan, è il massimo, quindi sono felicissimo davvero. Grazie. 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 Grazie.